I cantoni, tutti i cantoni che hanno partecipato, tutti i villareggesi, grazie a tutti, grazie al comitato e cominciamo a chiamare qua da noi il cantone terzo classificato, sono stati in testa per quasi tutto il paglio erano in testa anche a qualche secondo dalla fine, sono stati molto sfortunati ma sono sempre bravissimi il cantù campore! Allora ringraziamo i capi cantone Laura e Giuliano e ringraziamo i nostri personaggi storici l'imperatore Federico Barbabella Rosso e Beatrice di Borgogna Ancora un grande applauso a Cantù Campore! Allora secondi classificati, è comunque un'impresa, grazie al loro cavallo giallo che correva al secondo posto il canton Frassiun! Ringraziamo i capi cantone Elena e Maurizio! e ringraziamo i personaggi storici Bianca e Martino! Ancora un grandissimo applauso a Cantù Frassiun! Allora insomma, il loro cavallo era bellissimo, sembrava anche un cambello, aveva una schiena lunghissima però era veloce, è arrivato in fondo per primo, vincono il paglio di quest'anno il Cantùie! Ringraziamo i capi cantone Martino e Laura! Ringraziamo i capi cantone Martino e Laura! I personaggi storici padroni di casa, Guidone e Isabella! Grazie! 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 Grazie.